L'economia toscana cresce ma con il freno ancora tirato dopo quasi 10 anni di crisi, lo dice il rapporto IRPET 2016-2017, presentato a Firenze dal direttore dell'istituto Stefano Casini Benvenuti e dai due ricercatori che lo hanno curato, Leonardo Ghezzi e Nicola Sciclone, alla presenza tra le autorità del presidente della regione toscana Enrico Rossi. Dal 2008 il PIL toscano è calato del 3,4%, molto meno del 6,4% nazionale, ma la crisi morde ancora duro, a pesare sono soprattutto la povertà, cresciuta dal 2% al 3,2% tra 2008 e 2015 e la disoccupazione con un aumento del precariato, a soffrirne sono soprattutto i giovani. La soluzione, secondo l'IRPET, è tutta nel rilancio degli investimenti. Il rilancio degli investimenti si ripaga, quindi nel giro di poco tempo, addirittura rilanciando gli investimenti con indebitamento, il rapporto debito-PIL, che è quello fondamentale, tendrebbe ridursi. Anche le nostre stime ci dicono che questo potrebbe accadere. Quindi bisogna avere più coraggio, forse anche a livello europeo, forse a livello nazionale, per rilanciare questo. Ora per far ripartire il lavoro e combattere il disagio sociale serve un allentamento delle politiche di rigore, ha detto il presidente della regione Enrico Rossi, che ha ricordato gli investimenti in atto in Toscana. Abbiamo investimenti infrastrutturali sui porti, come sono noti, abbiamo investimenti sul sistema delle ferrovie, stiamo cercando di portare in porto anche cose decisive sui servizi pubblici. Queste cose noi possiamo farle, le stiamo facendo. Come cerchiamo di spendere al meglio i fondi comunitari. Le previsioni del rapporto IRPET dicono che il PIL toscano crescerà dell'1% nel 2017 e tornerà ad assestarsi a più 0,9% nel 2018. Una crescita ancora debole, ma che conferma il miglioramento, anche se lento, che l'economia toscana registra ormai da tre anni.